tecno gym analisi mensile agosto 2020 allora un grafico che non ha un'estensione temporale molto ampia il titolo quota da praticamente quota dal 2016 da maggio del 2016 e però abbiamo già a vedere il titolo pronti via al volo abbiamo già alcuni elementi che possiamo sicuramente sottolineare direi che fondamentalmente sia uno sia una la fascia di prezzo da identificare forse due ora le vediamo intanto segniamo come al solito cerchiamo di segnarci i massimi assoluti che sono in area 12 e 18 12 19 12 20 e come fascia di prezzo identificherei subito questo swing qua che praticamente ha dato origine a un piccolo ritracciamento di un paio di mesi dopo questa salita importante subito dopo la collocazione è vedete come è stata è poi una fascia di prezzo dove praticamente si è fermato con la candela di marzo quindi potremmo identificare sicuramente questa fascia di prezzo qua vedete potremmo portarla appunto fino qui eccoci quindi ora magari possiamo aggiustarla un secondo su questa candela siamo vedete ha chiuso se dovessimo guardare proprio questo livello qui ha chiuso leggermente sotto ma non si può dire proprio che questo livello sia stato venduto anzi in realtà poi appunto come vedete con la candela di aprile è subito stato ricomprato e come del resto qui insomma maggio la candela chiude appena appena sopra ecco però vedete con la candela di giugno praticamente la candela si spinge praticamente fino a questi livelli che avevano funzionato come pavimento nei mesi precedenti e negli anni precedenti no vedete questo livello di 889 890 qua qui vedi subito ricomprato qua viene difeso qua viene difeso qua viene difeso poi vabbè con la candela di marzo viene definitivamente venduto però questo è un livello che poi vedete la candela di giugno si spinge praticamente fino a quel livello quindi chi era long da prima identifica quel tipo quel livello quasi praticamente come un target e quindi le posizioni vengono ricoperte il titolo torna indietro e addirittura chiude in rosso chiude in rosso chiude praticamente sotto i massimi del mese precedente luglio candela di nuovo che prova a spingersi ma fondamentalmente torna di nuovo rossa quindi una candela con pochissimo body e un po di spike da una parte dall'altra decisione in decisione totale operatori che non vogliono esporsi su un arco temporale troppo ampio quindi non oltre il mese e quindi direi fondamentalmente attesa per gli sviluppi generali del del insomma a livello di economia e a livello insomma macroeconomico quindi che cosa dire livello importante quindi sicuramente questo di 6 6 a 0 5 sarebbe bello ora il titolo vedete la candela di luglio non chiude per fortuna sotto il mese di giugno ma non lascia presagire niente di niente di buono quindi è possibile un ulteriore allungo ribassista e le aree sicuramente di approdo possono essere questa prima 6 e 11 potrebbero essere sicuramente i minimi di marzo ok che tra l'altro corrispondono anche poco più in giù quindi abbiamo un'altra area interessante che è l'area di massimi tutta compra da dove il prezzo poi è partito per la salita vedete quindi tra l'altro 5 0 7 diciamo che la deadline importante è l'area di 5 euro ora il prezzo non è vicinissimo però potrebbero essere dei livelli molto molto interessanti su cui ricollocarsi attendiamo sicuramente gli sviluppi ma attenzioniamo questi livelli quindi ripetiamo questo primo livello in area 6 0 5 6 euro e poi 5 euro se volessimo si potrebbe tentare un'operazione veloce magari provare una prima apertura su quest'area se no si può direttamente attendere l'area di 5 euro vediamo i prossimi sviluppi grazie a tutti